ben tornati amici youtube oggi voglio fare un video su uno certo particolare che è una sigaretta usa e getta sigaretta elettronica usa e getta io non fumo ma ho visto una persona che fumava queste sigarette e gli ho chiesto se ne poteva dare una esaurita queste sono sigarette elettroniche usa e getta quindi non sono ricaricabili siccome ho visto nel bellissimo canale dei big live big live.com canale inglese di uno youtuber con tantissime iscrizioni e tantissime visualizzazioni ho visto che a prego queste sigarette per vedere il contenuto in italia non aveva ancora viste e ora ci sono non so se una bella notizia o meno perché comunque vanno bene o male a inquinare si usano poi si buttano via però vediamo cosa c'è dentro e come funziona possibilmente e come se e se come penso e spero si può recuperare qualcosa di insperato allora per aprire questa è fatta con un volgro di plexigas più stosto robusto con un coltellino si può andare qua in mezzo io l'ho già fatto con l'unghia posso aprirlo e vediamo che c'è una specie di c'è un dispositivo elettronico con due fili non so sinceramente cosa sia potrebbe essere una resistenza per scaldare potrebbe essere sensore ecco questo viene in questo modo e quindi il rivolgo esterno simile a una penna di plexigas come dicevo molto robusto eccetera può essere diciamo buttato sempre nella plastica per riciclarla questa parte qua è la parte vera e propria della sigaretta questo abbiamo dato che il fondo da qua si espira cosa succede ci sarà dentro un sensore che quando speriamo farà partire la resistenza che vaporizza il liquido ora per aprire questo sembra una si infatti è un nastro adesivo voto su se stesso gusto è stroberri lemonade quindi limonata di lamponi anzi stroberri sono fragole ecco quando mi interessava è la pila di alimentazione che questa anche se segale questa è un'usegetta l'alimentazione è fatta con una come potete vedere batteria ricaricabile allora una batteria agli ioni di litio litio polimero come questo ad esempio che è di un drone questa è abbastanza esaurita che si è gonfiata questa è più piccolina ha una certa capacità però quello che è particolare è che su un dispositivo usegetta si utilizza una batteria ricaricabile per cui questa batteria che ha fatto un solo ciclo di carica è ancora nuova e viene buttata perché i costruttori fanno questo una ragione in particolare non la conosco però molto probabilmente perché costa meno utilizzare questa rispetto a una pila equivalente soprattutto una pila equivalente dovrebbe tipo un alcalina dovrebbe avere molto più volume molto più peso e quindi non sarebbe possibile quindi conviene tra le virgolette a loro utilizzare comunque una pila ricaricabile e utilizzare solo una volta il che è uno spreco abbastanza grande oltre a considerare lo spreco di dover buttare via poi tutto non solo la pila ma tutte le sigarette elettroniche quindi analizzandolo facendo una specie di reverse engineering una tentativa di reverse engineering si aspira da questa parte quindi qua c'è una zona verosimilmente dove c'è dentro il liquido c'è una parte spugnosa dove c'era dentro il liquido perché questa sigaretta è asomorita di solito garantiscono un certo numero di tiri così mi hanno detto l'aria passa da qua quindi in questo modo probabilmente è il sensore che accende la sigaretta quando il fumatore aspira quindi questo sensore darà l'on off l'accensione sembra proprio che non ci sia nessun altra elettronica per cui è proprio un interruttorino e due fili vanno qua dove molto probabilmente non è ancora aperta però dove naturalmente ci sarà la resistenza perché questi sono delle sostanze madre di glicole se mi ricordo bene comunque che vengono vaporizzate con una resistenza che produce calore ecco qua c'è un tubicino bisogna stare attenti perché queste sostanze non è che facciano molto bene però se la gente di fuma anche toccarlo un po non dovrebbe uccidere nessuno questa so di chi era per cui non ho problemi vedete c'è ancora un po di liquido bisogna stare attenti perché il liquido che si contiene nicotina è meglio non toccarlo eccetera ecco allora adesso magari vado a prendere un po di guanti o uno stracetto per apprendere questa parte qua e così vediamo comunque molto brevemente qua direttore c'è un'aggiunta vedete i colori di fili diversi so se si riesce a notare si passa dal filo nero e blu a due fili rossi e qua dentro c'è sicuramente la sostanza con la resistenza che vaporizza appunto queste sostanze funzionamento è molto semplice non pensare ci fosse un circuito elettronico col sensore eccetera invece il sensore è proprio di tipo on off più che on off vedete che ha tre fili per cui probabilmente è un sensore on off ma di tipo a transistor cioè sapete che il transistor può essere usato come interruttore questa è una supposizione ovviamente sto cercando di fare il reverse engineering senza ancora guardare senza strumenti eccetera però con tre fili tipicamente il componente con tre fili è il transistor siccome deve funzionare l'interruttore potrebbe essere proprio questo il componente per estrarre le spugnetta che contiene ancora tracce del liquido ecco ho usato questo per non sporcarmi vedete che è ancora un po bagnato ecco qua si vede un po come funziona la resistenza allora c'è questo tubicino dove passa appunto il vapore creato dalla resistenza la resistenza dovrebbe essere qua dentro c'è anche questo ecco questo qua una specie di stoppino sto facendo il reverse in generica così in diretta cioè in diretta ovviamente filmato e registrato però non ho mai visto prima questo secondo me sì è così questo è una specie di stoppino simile al stoppino della candela o di una lampada d'olio ancora meglio che va a prelevare il liquido da questo serbotoglietto quindi essendo sempre immerso in questo questo stoppino è sempre bagnato di questo liquido qua attorno allo stoppino al centro c'è un filo avvolto che è la nostra resistenza che se provo se posso vi faccio vedere vorremmo inquadrarla vedete che si vede qualcosina provo a zoomare ecco vedete che c'è proprio lo stoppino con la resistenza non è altro che quel filo lo stesso filo potrebbe essere un filo di rame questo filo qua rosso oppure sarà magari di altro materiale più dato alla resistenza ma il colore sembra proprio rame di piccola sezione 4 cibiato quando si aspira questo transistor chiude il circuito la batteria dà potenza e vaporizza cioè la resistenza si scalda scaldandosi vaporizza il liquido che compresa lo stoppino che viene pescato appunto dallo stoppino stesso perfetto penso che di avere azzeccato il funzionamento al 100% ora lo smonto ancora di più per vedere se riesco a capire meglio ecco l'ho smontato mentre questa batteria a litio che sicuramente le ciclerò per futuri progetti proverò con carica batteria apposito bisogna stare attenti con queste batterie perché possono esplodere e possono causare incendi quindi vanno ricaricate con appositi caricatori che impediscono appunto l'esplosione la tensione massima da dare è 4,2 volt e tensione nominale è 3,7 non bisogna mai superare i 4,2 ovviamente si gonfia e tende ad esplodere non bisogna mai bucarle eccetera eccetera quindi vanno trattate con cura quindi se fate una cosa del genere fatelo a vostro rischio e tenendo tutte le precauzioni di sicurezza poi misurerò anche la tensione quindi vedete che circuito è proprio questa resistenza e questo molto probabilmente proprio un transistor perché all'interno di questo sensore con uscita appunto transistor ci va il più o meno delle batterie che sono rosso e nero ed esce il filo azzurro mentre il meno va direttamente qua quindi quando il sensore non è attivato non succede niente quando il sensore è attivato perché si satura il transistor e manda in conduzione il rosso col blu e quindi fa passare corrente che manda più qua il meno sempre collegato passa corrente si scalda la resistenza potrei provare a vedere cosa succede a collegare appunto il blu con il rosso vedere se si riesce a vedere che la resistenza si scalda basta fare contatto qua visto che il filo è scoperto accidenti la corrente piuttosto alta perché una sorta di quattro circuito la batteria come avete visto ancora carica potremmo vedere a rifarlo c'è anche una ecco forse è meglio fare così se io soffio sul sensore ecco non so se avete visto vedete ho soffiato sul sensore è diventato azzurro e passa corrente qua la resistenza si scalda sta diventando tiepida proviamo ancora vedete benissimo ora si scalda un po' anche le batterie perché essendo sostanzialmente un cortocircuito sono una volta corrente vedete ora con un con il mio filato multimetro misurrò sia la resistenza che scalda l'elemento scaldante questa una volta la volta si può buttare la plastica insieme a questa quindi si possono riciclare queste parti qua misuro la resistenza di questo e provo a vedere questo sensore che effettivamente è più complicato di quello che io pensavo ed è effettivamente tutto il circuito elettronico qua dentro lo contiene anche non è un sensore solo ma una vera e propria piccola scheda elettronica che provo ancora a farvi vedere più in grande se riesco a mettere vedete vedete il led ora vi indico guardate come sono grandi le mie dite quindi è un ingrandimento molto alto questo è appunto il mio piacevite piccolo questo è il led che si illumina in azzurro questi sono i tre terminali dell'uscita a transistor io ho ipotizzato essere l'uscita a transistor qua c'è una membrana perché deve far passare l'aria attraverso provo a soffiarci rimanendo inquadrato se riesco soffiando a distanza non funziona ecco soffiato forte funziona ancora vuol dire che la batteria ancora carica un bene in parte e semplicemente esaurito il liquido il liquido non mi interessa siccome non sono fumatore neanche uno sviluppatore quindi questa parte qua le butto subito nella plastica questo è indifferenziato e poi faccio le misure vediamo su con l'impostazione volt continua che tensione è la tensione di batteria è stato attento a non poter circuitare ah no 3 3 volt quindi avranno impostato la batteria fare in modo che duri come la ricarica quindi 3 volt vuol dire che a fine carica perché è una batteria con tensione luminale vi è dato 3,7 e sono i massimi 4,2 vediamo quello che c'è scritto sopra sembra piuttosto robusta per essere una batteria litio polimero vedete infatti come supponevo è 3,7 volt quindi è una unità di litio tensione luminale e 500 mAh 500 mAh vuol dire che può dare grosso modo mezzo ampere per un'ora se la scritta è corretta a volte sono un po' sovraestimati questi valori bene è scarico quindi poi proverò a caricarla e per caricarla posso anche con le funzionalità del mio caricabatteria anche vedere quanti mAh sono serviti per caricarla allora vediamo la resistenza nella resistenza sarebbe più corretto dire la resistenza del resistore però tutti chiamano resistenza sia il parametro che l'oggetto quindi vediamo la resistenza del resistore che dovrebbe essere molto bassa adesso 1 ohm bene 1 ohm la resistenza dei contatti adesso c'è solo questo filo quindi quello che misuro è solo resistenza 2,7 ohm sì no allora è precamente in corto perché se io metto insieme i due puntali 1,2 quindi c'è un ohm pochissima resistenza pochissima resistenza quindi vuol dire che passo un'ampere 3 volt diviso 3 ohm 1 ampere passa un po' più di un ampere perché quando è carica la batteria è un po' più di 3 volt e questo è un po' meno di 3 ohm quindi passo un ampere quindi una sono circa 4 watt è abbastanza significativo che il materiale con cui ho fatto questo tubicino è materiale resistente a alte temperature vuol dire che qua scalda parecchio ecco la resistenza vedete metto fuoco ecco la resistenza non è altro che questo filo avvolto questo filo avvolto sullo stoppino quindi ovviamente basso costo anche perché se l'uso e getto il prezzo che di vendita è basso per cui il prezzo di prodotto è molto più basso non mi andava di stare a scaldare con il saldatore per cui li ho tagliati anche perché poi eventuali altri collegamenti li faccio direttamente qua fatto che qua sicuramente c'entro il transistor ma c'entro molto molto di più qui c'è il sensore c'è il led quindi ci sarà il circuito che pilota il led e come uscita finale c'è il transistor che conduce il più al blocker il carico che in questo caso è la resistenza quindi è piuttosto complicato potrei utilizzare questo sensore se ho bisogno di un sensore di vento o di flusso d'aria sostanzialmente soffiandoci dentro si accende e può fare funzionare qualcosa però quello che eventualmente più carino da utilizzare è la batteria ora provo a caricarla e vediamo quanto energia serve per caricarla e quanta energia mi dà una volta caricata per vedere se è ancora funzionante molto probabilmente è praticamente nuova perché è stata utilizzata una sola volta ora la batteria agli ioni di litio anzi litio polimero allora 11 volt o di 3 serie non va bene qui 1 ampere non va bene allora siccome è mezzo ampere ora la corrente di carica potremmo farla 1C cioè ci vuole un'ora facendo 0,5 oppure è meglio comunque star basse facciamo 0,3 cioè meno della sua cioè ci vorrà circa due ore per caricarla più lo corretti cariche basse meno si scalda la batteria la tensione è una sola batteria in serie quindi 3,7 volte e facciamo caricare se lo tenere schiacciato per fare la batteria sta cercando conferma chiede conferma perché è pericoloso ecco sta caricando 0,3 ampere la tensione sale velocemente fino a 3,8 la nostra batteria vediamo cosa fa questo caricatore fa prima una carica una carica corrente costante 0,3 ampere fino alla tensione massima che è 4,2 poi rimane a tensione costante fino alla completa carica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti